In questo Saturday Night, due sabbati nel 2017, torneremo alla consueta formula del venerdì alle 20.45 da febbraio. Ancora tante partite da seguire, siamo soltanto alla seconda di ritorno con noi qui su Sport Italia. Da seguire invece è l'assalto finale del Pescara quando mancano 5 minuti e 20 alla fine del match. Il portiere in movimento, Cuzzolino in campo, la gestione a tre del pallone con Cuzzolino che calcia e trova ancora leggero che sta diventando il fattore.